Buon Natale a tutti i bambini! Sì, volevo soltanto dirvi che noi del Formo dei Giovani abbiamo ideato un progetto molto solidale per i bambini bisognosi in Africa, infatti oggi siamo qui in piazza per raccogliere domi da rivolgere a situazioni no profit che curano aspetti molto importanti per i bambini bisognosi in Zimbabwe e in altri luoghi dove lo stato civile in Africa è spesso molto assente. Poi volevo comunque informarvi che il Formo dei Giovani sarà presente il giorno 22 mattina, giovedì 22 dicembre, al ritorno Oscar Memeier per la tentazione dell'Opusco per non chiudere gli occhi, con la partecipazione dell'amministrazione comunale la quale ci ha invitato a partecipare a un'amministrazione molto importante curando infieme ai bambini aspetti importanti riguardo ai profughi e al femminicidio. Poi inoltre vi ricordiamo che il giorno sabato 24 dicembre siamo qui in piazza insieme alla ribarta per la caccia a tesoro e infine il giorno mercoledì 28 dicembre e giovedì 29 dicembre siamo sempre qui in piazza per i laboratori musico-teatrali a quello del Formo dei Giovani. Grazie per l'attenzione e per la prossima continuazione. 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 Grazie per l'attenzione e per la prossima continuazione con tutte le vostre letterine che porteremo al comune affinché possiamo insomma con i vostri consigli pensare a un aravello migliore a misura di bambino ma anche a misura di anziano e un aravello migliore per tutti. Leggo qualcuna delle vostre letterine. Vorrei un parco giochi. Caro Babbo Natale vorrei più spazi per bambini. Va bene lavoreremo per voi promesso. Tagli auguri a tutti! Tagli auguri a tutti! Tagli auguri a tutti!